Ciao, sono Pasqualino Rossi, ci troviamo ad Albignano in provincia di Caserta, nella mia pizzeria, pizzeria Elite Rossi, e niente, ora andremo a realizzare una margherita con l'impasto con l'impasto. Questa è la prima fase, facciamo l'impasto. Con un litro d'acqua, 35 grammi di sale, saliamo l'acqua, poi aggiungiamo l'impasto madre, e con uno starter che può essere succo d'uva, miele o qualcosa di zucchero che faccia iniziare la fermentazione con l'acqua. A questo uniamo la farina, iniziamo a lavorarla piano piano così, perché l'impasto ha bisogno di due lievitazioni, quella chimica che è quella dovuta al lievito che noi mettiamo all'interno, poi la lievitazione meccanica è quella che sto facendo adesso con l'impasto a mano oppure con l'impastatrice, così infulsiamo aria all'interno, così riusciamo a capire bene il punto di impasto, alla fine otterremo un impasto liscio che dovrà solo lievitare e poi dopo ci mangiamo una bella pizza. Questa è la seconda fase dove facciamo lo staglio dell'impasto. E ora procediamo allo staglio dei panetti per una seconda lievitazione. Come puoi vedere, già si vedevano le prime bolle, che è la lievitazione meccanica, con l'influsso dell'aria abbiamo dato con i pugni, l'impasto già inizia a lievitare piano piano. Cioè qua possiamo vedere la lievitazione meccanica, perché abbiamo infulsato aria all'interno e quindi si hanno tutti questi pori con una buona consistenza. Dopo lo staglio facciamo lievitare i panetti in una tavola di legno, dove la tavola assorbe anche un po' di umidità e dopo due ore abbiamo l'impasto direi perfetto. Questa è la terza fase, farcitura e cottura della pizza. Dopo sei ore di lievitazione con l'impasto che abbiamo lavorato prima. Ora lo stagliamo. Andiamo a condire con San Marzano Antico di Napoli Agrigenius, fior di latte misto bufala che producono l'albignano del casificio del casolare, del basilico fresco e mettiamo dell'olio caprareccia e producono la caliazza. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!